Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video, io sono Kai Allora ragazzi oggi siamo su Crash of Clans Questa battuta me l'ha detto Harry Ecco vi presento Harry per chi non lo conoscesse E' praticamente il secondo giocatore che è arrivato in Lega Leggenda in Italia Saluta Harry Bella ragazzi, ciao a tutti Allora ragazzi oggi siamo qua con... Eh, 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 aspetta com'è che ti chiamavi? Eh, eri... fre, eri freico Ah, eri fre, no, tu mi chiami eri fre Ma era eri fre, cavolo Quindi ragazzi oggi siamo in questo clan temporaneo che ho praticamente creato da poco Perchè dobbiamo provare i minatori Dato che eri fre se li ha gemmati al 4 Perfetto, ok, ora eri ti mando l'amichevole e vediamo cosa mi fai Guarda, guarda live, ok, siamo partiti ragazzi Eri se vuoi commenta pure anche te, insieme Allora provo con tutti i minatori e nel castello ho un golem, un mago e un barbaro, siccome i minatori mi si chiamano dei domatori sotterranei, i mina domatori, provo a tancare gli eroi con un golem, tra l'altro vediamo che non beccino qualcosa, non so se tu c'hai... No, ho gli eroi che dormono, sei fortunato, si, ah ah ah, bomba, occhio alle talpe, oddio, guardate le talpe ragazzi, mamma mia come scappano via, ok sono uscite anche le mie talpe dal mio castello, ok sono partite le torri inferno, lissa talpe contro talpe come va? Un scontro alla cieca insomma Oi raga, mi sta già facendo 34% e probabilmente gli eroi sono ancora totalmente in vita, oddio Guardate qua i minatori, mamma mia che devasto, oddio, apprendete la regina attaccata al culo del mio tawhol, oddio, 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 guarda, guarda, oddio Ok, il tawhol è tuo, anche la stella del 50%, ma le tre stelle è difficile Ma sai che il minatore, contro il minatore potrebbe essere interessante Anche il minatore è in difesa dici? Ma non so, il terreno te lo regaliamo 70% ragazzi, mi ha fatto un attacco proprio scialla, scialla e mi ha fatto 70% a un tawhol 11 quasi totalmente maxato, vabbè lo sgherro non mi facevi niente Ragazzi ora vi faccio vedere un tre stelle che ha fatto a Harry in lega leggenda No Eric, questo qua era spento eh Era cattiva Ma guarda, ma guarda dove l'ha messo il tawhol Eh l'ha probabilmente messo fuori e l'ha regalato eh Mamma mia che devasto, i minatori al 4 fanno 3 stelle, tawhol 11 totalmente maxato, però spento Beh è stato easy sto qua, vincere è facile Sì sì, infatti ringrazio Michelin dei Blaster Eh probabilmente i minatori hanno Eh sì sì, purtroppo, in scalata non mi è mai successa una roba del genere Guarda, probabilmente i minatori sono full vita, non sono proprio morti neanche uno E li distruggono tutto senza problemi Eh sì Probabilmente tipo eri contro un tawhol a 9 qua in questo caso Neanche Sì, effettivamente sì Se congeli nei modi giusti le Torri Inferno e Arco X i minatori fanno devasto Guarda, gli eroi hanno ancora tutta la vita 45 minuti di manutenzione 45 minuti di manutenzione, madonna Io so cosa tolgono Vabbè 20 coppe in Lega Legenda Scialla proprio quando non stai scalando Va bene ragazzi, questo era il video oggi Come al solito, spero che vi sia piaciuto Qua abbiamo Harry Frey Che lascio a lui i saluti finali Ciao ragazzi, mi raccomando iscrivetevi e spollicciate Tanti tanti bei like E noi ci vediamo al prossimo video Ciao